Questo paese triste, nell'epoca più sporca, composto e decomposto da gruppi di linciatori Salve ragazzi, questa è una risposta ad alcuni commenti al video dal titolo I salvataggi che ci hanno salvato, in questo video io affermo che la politica economica messa in campo da Monti in effetti ha salvato il paese, apriti cielo, sono scoppiate subito le polemiche Ora io vorrei farvi una metafora, immaginate un esercito che è in battaglia e la battaglia sta andando male, molto male, si rischia la disfatta Allora si riunisce lo Stato Maggiore e mentre si parla, dal fondo un ufficialetto d'ordinanza alza la manina e fa una critica radicale Dice, è tutto sbagliato, è tutto da rifare perché avremmo dovuto dare più importanza agli arcieri e meno alla cavalleria perché il giusto modo di condurre una battaglia è puntare sugli arcieri sull'artiglieria la cavalleria è superata lo si ascolta, molti applaudono, gli danno ragione dopodiché però si deve evitare la disfatta non è che si può cambiare l'organizzazione dell'esercito così sul momento e dunque il generale Monti fa quello che è inevitabile fare con quello che organizza la resistenza, una ritirata ordinata dell'esercito la disfatta è evitata e quindi in questo senso nonostante perdite gravi e dolorose è una battaglia vinta lo avete capito adesso quello che ho detto? bene, dopodiché uno si domanda beh, che fine ha fatto l'ufficialetto d'ordinanza quello che aveva alzato il ditino? l'ufficialetto d'ordinanza nel frattempo ha ottenuto una parrucca è entrato in cavalleria e quindi adesso sta zitto, bello che è muto ecco quello che è successo se lo volete capire poi se non lo volete capire io non ci posso fare niente potrei entrare nel dettaglio delle osservazioni dei commenti ma la sostanza delle cose è questa nel salutarvi consentitemi di fare ad alcuni di voi, non a tutti perché non tutti sono stati incapaci di capire quello che ho affermato ad alcuni di voi vorrei fare una domanda per quanto tempo ancora resterete un branco di coglioni bacetto con questo io non sto spiccando nulla io devo gestire l'esistente con grande responsabilità perché avendo visibilità essendo sempre provocato su questo tema essendo sempre provocato su questo tema e essendo sempre provocato su questo tema